Per colpa degli incivili a Barletta, la Barça ha deciso di rimuovere i cassonetti raccoglitori degli indumenti e accessori usati. Dislocati su tutto il territorio cittadino sono ormai da tempo diventati ricettacoli del sacchetto selvaggio. Saranno rimosti nei prossimi giorni a Barletta ad opera della Barça i raccoglitori di indumenti e accessori usati. Il motivo è presto detto, i raccoglitori dislocati su tutto il territorio cittadino sono ormai da tempo diventati ricettacoli del cosiddetto sacchetto selvaggio. Abbiamo infatti constatato, fanno sapere dalla Barça in una nota, che i raccoglitori di indumenti e accessori usati insieme alle campane di vetro sono luoghi preferenziali presso cui si registra con elevata frequenza il conferimento errato e indiscriminato e criminale dei rifiuti. Per questo, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, indumenti e accessori usati potranno essere conferiti presso gli appositi contenitori nei due centri comunali di raccolta Barça, centro di raccolta Arcobaleno in via Callano e centro di raccolta di Parco degli Olivi in via degli Olivi. La Barça, nella nota, fa anche sapere che è prossima l'eliminazione delle campane di vetro a partire dal quartiere Sette Frati, dove sarà avviata la sperimentazione della raccolta porta a porta. L'eliminazione delle campane ha l'obiettivo di fungere da deterrente contro abbandoni e sversamenti di rifiuti, preservando la città sia dal punto di vista igienico-sanitario che ambientale.